Un vero e proprio botte e risposta a quello che sta avvenendo tra alcuni conquilini dell'Aula Falcone Borsellino del municipio di Favara dopo l'ultimo consiglio comunale avvenuto sabato scorso. In quell'occasione, in assenza dei consiglieri d'opposizione, la Dunanza aveva approvato quasi tutti i punti all'ordine del giorno e proprio su alcuni di questi intervengono le consigliere del gruppo misto Marili Chiapparo e Rossana Castronovo. In particolare le stesse si concentrano sull'approvato piano finanziario Tari 2017 che aveva peraltro registrato il parere contrario dei revisori dei conti. Un'approvazione sostengono le consigliere avvenuta in fretta e in furia senza consultare il parere dell'opposizione. Non succede nulla di diverso da quello a cui siamo abituati ad assistere da un anno a questa parte e cioè alle inammissibili forzature di regole democratiche che sono irrispettose degli organi istituzionali. Nel Consiglio Comunale scorso il Presidente con una inusuale puntualità che non è da lui, anzi devo dire che per consuetudine ritarda l'inizio dei lavori di un lasso di tempo compreso tra la mezz'ora e l'ora per garantire a tutti un'ampia partecipazione. Quella volta invece ha chiamato l'appello da tenizio in tutta festa i lavori consigliari approvando in assenza di tanti consiglieri d'opposizione e peraltro in assenza anche dei revisori dei conti e senza alcuna discussione in aula sull'argomento la proposta sul piano Tari 2017 e la proposta sulla connettività e adeguamento del software per le quali proposte i revisori dei conti avevano espresso parere negativo. Vuole sapere qual è la verità? La verità è una, la verità è che per rimediare all'incapacità di governare la città l'amministrazione senza vergogna ha messo le mani in tasche ai cittadini deliberando un aumento del costo del servizio rispetto a quello che era il piano di previsione Tari per il 2016. E non solo, a proposito di conti, bene che si sappia che in un anno di amministrazione a 5 stelle solo per il servizio di nettezza urbana il comune, carte alla mano, ha prodotto un mancato incasso e quindi un debito di quasi 4 milioni e mezzo di Euro ed è forse per questo che si è voluta sottrarre alla verità dei fatti e in tutta freccia hanno approvato il piano finanziario della Tari 2017 nonostante le incongruenze sollevate dai revisori dei conti. E non ci dicano che era urgente quando ancora il bilancio tarda ad arrivare, ma forse tarda proprio perché è un bilancio di lacrime e sangue e non sarebbe in questo momento funzionale per le prossime elezioni regionali. E non voglio aggiungere altro perché il resto delle mie argomentazioni è destinato ad altre autorevoli sedi preposte dove sicuramente troveranno sostegno legale. Pronta la risposta del gruppo consigliare Pentastellato con una nota a cura del consigliere Carmelo Sanfratello. Per quanto riguarda l'assenza dell'opposizione per buona parte del consiglio la colpa della maggioranza, scrivono, sarebbe quella di essere stata puntuale. Il consiglio comunale di venerdì praticamente aveva iniziato con mezz'ora di ritardo e il consigliere Scalia aveva richiesto al presidente del consiglio comunale di essere puntuale per la prossima volta lamentandosi di questo ritardo appunto dell'inizio dei lavori. Il presidente del consiglio comunale aveva chiesto per la prossima seduta del consiglio comunale di essere tutti presenti all'orario prestabilito in modo tale da chiamare l'appello. Ecco, l'indomani alle 18 il consiglio comunale inizia puntualmente e tutti i consiglieri di maggioranza erano presenti in aula tranne tre e per la parte dell'opposizione rappresenti i consiglieri Gero Castronovo e la Rossana Castronovo. Durante le fasi di consiglio comunale l'ultimo punto che è il verbale dell'approvazione seduta precedente viene dato per letto e successivamente viene eletta la proposta Tari da parte dell'ingegnera Avenia. La consigliera Castronovo ritene opportuno non intervenire durante questo dibattito che si doveva aprire sulla questione Tari. Noi già avevamo chiarito con l'amministrazione e con i dirigenti comunali e pertanto abbiamo votato positivamente. Quindi io non capisco questo tipo di polemica anche perché firmato un comunicato firmato dalla consigliera Castronovo dove lei stessa presente in consiglio comunale non interviene mi lascia a quanto perplesso. Voi parlate anche in risposta alle consiglieri Ciapparo e Castronovo di un risparmio del costo della Tari. Sì, il risparmio c'è ed è effettivo e lo possono vedere tutti i cittadini perché il piano Tari 2016 è stato deliberato con un costo di 6 milioni e 8 quest'anno il piano Tari viene deliberato con un costo di 6 milioni e 2 quindi abbiamo un risparmio di quasi il 10%. E per quanto invece riguarda il buco di bilancio che avrebbe lasciato la consigliera Ciapparo durante la sua esperienza di assessore nella giunta precedente, cosa ha da dire? Io ho da dire che la consigliera Ciapparo praticamente improvvisa dei presunti buchi lasciati da parte dell'amministrazione grillina ancora ad oggi non abbiamo nulla di ufficiale e la mia è una provocazione piuttosto pensi lei a quanto ha fatto il primo anno di assessore al bilancio con la giunta Mancanella il buco che ha lasciato lei perché lì c'è un contuntivo e può essere tranquillamente visto da tutti. Giunge quindi la controrisposta della consigliera Ciapparo che invita a sua volta chi è interessato a produrre le cifre del buco di bilancio che la stessa avrebbe lasciato durante l'anno di assessore nella giunta Mancanella. Replica anche della consigliera Rossana Castronovo sono una mente pensante, non sono uscita dall'aula perché chiamata da qualcuno è inutile sprecare fiato quando chi sta dall'altra parte non è aperto al confronto. Solo per correttezza e per dovere di cronaca chiarisco che è contrariamente alle elezioni del capogruppo 5 Stelle e anche se a lui non farà piacere io e dico io sono una testa pensante non mi sono allontanata dal consiglio sul suggerimento di nessuno e ho ritenuto non intervenire per due ordini di motivi il primo perché avevo già ampliamente espresso il mio parere nella prima interrogazione consigliare sull'argomento poi reiterata in interpellanza e secondo motivo perché sarebbe stato del tutto inutile sprecare ancora fiato con chi non sente razioni perché ha soggettato alle posizioni dell'amministrazione. Questi in sintesi gli argomenti centrali della faida interna al consiglio comunale favarese botta e risposta che si sta svolgendo a colpi di comunicati stampa i quali possono essere consultati integralmente sul sito di informazione online siciliatv.org